A banchette due grandi cantieri, due lavori, uno pubblico e uno privato, uno su via Castellamonte con i nuovi parcheggi e uno nell'area Bennett dove sorgerà un complesso commerciale. Sì, partiamo dal secondo, il complesso commerciale. Il complesso commerciale è innanzitutto un complesso di completamento di un'area commerciale, quindi come si sa il Bennett è un'attività sostanzialmente alimentare, l'area che viene inserita è di completamento, quindi non sarà alimentare, saranno altre tipologie di prodotti che potranno andare o dal brico o dall'abbigliamento o altre cose diverse comunque dall'alimentare. L'area dove è stato fatto è un'area anche dal punto di vista urbanistico di completamento, un'area compromessa, era schiezzata tra la pedemontana come si vede e i parcheggi del Bennett, quindi assolutamente non utilizzabile da nessun punto di vista economico. Inoltre l'area è sottoposta a vincolo ambientale, per cui ci sono, pur essendo un centro commerciale, delle prescrizioni da parte della sovrintendenza ed è fatta in un certo modo qui e sarà inserita in una serie di cortine di alberi che peraltro secondo me riqualificano anche tutta l'area che oggi è tra due strade con Sterpaglie e poi questo grande capannone che è il Bennett e per certi aspetti è anche un'opera di riqualificazione di tutta quell'area fortemente compromessa. Per quanto riguarda invece via Castellamonte, lavori con parcheggi nuovi? È una via che praticamente da quando sono sorti i palazzi negli anni 60 non è mai stata sistemata e quindi infatti dava l'idea di una serie di palazzi messi lì, come sappiamo, in una via centrale. L'idea è stata quella di riqualificarla tutta la via, quindi con i marciapiedi e riorganizzando l'ingresso dei giardini pubblici per valorizzarli, quindi un intervento di valorizzazione. Siamo stati costretti a realizzare un primo lotto, inizialmente l'anno scorso quando siamo partiti il progetto prevedeva da subito tutta la via, i tagli che sono subentrati a causa della situazione economica finanziaria del Paese e i successivi interventi delle leggi di stabilità ed altri ci hanno costretto a rivedere l'intervento, a farne il corpo centrale e poi procedere per lotti negli anni successivi. Quindi siamo partiti con la parte più importante che è la riqualificazione della parte centrale di via Castellamonte, l'accesso ai giardini pubblici, quindi anche una riqualificazione dei giardini pubblici, dei parcheggi, della via, sarà cambiato l'ingresso ai giardini, sarà reso molto più visibile, saranno spostati gli ingressi, spostate e fate altri interventi minori, quindi un intervento proprio, è dentro un intervento organico di riqualificazione di tutto Borgo Nuovo che si innesta anche con la costruzione della piazza che auspichiamo ovviamente di ultimare. L'intervento non è finanziato ovviamente con tasse, in quanto non sarebbe possibile, non essendo possibile, accendere più mutui in relazione alle leggi che avevo detto prima, quindi è finanziato con oneri di urbanizzazione e altre tipologie di interventi che quindi non pesano sulle tasche dei cittadini e comunque tra l'altro non sarebbero utilizzabili in altro modo. Stiamo correndo, gli uffici stanno facendo un grosso lavoro anche per realizzarlo entro l'anno, perché l'altro problema che abbiamo, ostante legge, il patto di stabilità, se io mi fossi portato dietro al prossimo anno delle risorse come oneri di urbanizzazione o altri tipi di oneri e sarebbero finiti nell'avanzo di amministrazione, dentro il patto non sarei neanche riuscito a utilizzarlo. Quindi non solo è stato fatto un intervento di riqualificazione, ma era l'unico modo per utilizzare delle risorse che abbiamo perché l'alternativa era quella che non potevano essere utilizzate per il meccanismo di patto di stabilità, sarebbero finiti lì in tempo indefinito. Quindi non solo abbiamo fatto questo, ma correndo per utilizzare risorse finanziarie che per i meccanismi legislativi non avremmo potuto realizzare. E stiamo infatti correndo, abbiamo fatto questo intervento in tempo di record, la gara d'appalto a giugno, l'obiettivo è per chiudere il tutto entro metà novembre. E da questo punto di vista devo dire che gli uffici sono stati estremamente efficienti e anche l'azienda che sta lavorando è un'ottima azienda e siamo certi che raggiungeremo tutti questi obiettivi rapidamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.